buonasera a tutte e a tutti ci ritroviamo per il consueto webinar del giovedì sera nell'ambito del progetto acqua e territorio di fronte al cambiamento climatico ricordo ancora una volta che questo progetto è stato previsto per la formazione dei giovani amministratori intesi come giovani di età quindi al di sotto dei 35 anni e giovani come carica ma ovviamente vista anche la modalità in cui si riesce a derogare la formazione è aperto a tutti gli amministratori non solo della città metropolitana di torino peraltro ben volentieri questa sera il dottor paolo varese naturalista e tecnico forestale del centro italiano di riqualificazione fluviale CIRF presenterà una lezione sui vantaggi di una corretta gestione della vegetazione fluviale e per i fluviali per le comunità locali quindi un argomento che si collega direttamente all'argomento della scorsa settimana dell'ingegnere danadan e molto bene al prossimo al prossimo webinar che tratterà di specie invasive vegetali e alle motivazioni per cui queste rappresentino un problema in particolare nei nostri corsi d'acqua ma non soltanto come dicevo il progetto è stato finanziato nell'ambito di un bando regionale per le politiche giovanili è stato presentato dalla città metropolitana di torino con le strutture delle politiche giovanili e dell'ambiente da anci piemonte da amci uncem e da sette comuni referenti per i rispettivi contratti di fiume o di lago di cui fanno parte che sono i comuni di avigliana rivalta l'anzo i verone vigone villar pellice e volvera la formazione come si diceva è rivolta agli amministratori pubblici quindi il target è quello degli dei politici non ha l'ambizione di avere o meglio non ha un taglio non vuole avere un taglio tecnico anche se ci saranno sicuramente dettagli e riferimenti tecnici molto importanti per le attività anche politiche e le scelte di un territorio in in regia per l'aiuto il sostegno della realizzazione di questi webinar abbiamo per la città metropolitana le colleghe emanuela sarzotti nona tognoni claudia rossato e enrica gaggero e per anci piemonte lara graziano che appunto aiutano e supportano anche le risposte tecniche che vorrete avere rispetto a problematiche di connessione o quant'altro a questo proposito vi riferisco che potete in qualunque momento interagire con con noi con lo staff che poi si occuperà a sua volta di riferire eventuali domande direttamente al docente mentre cercherà di risolvere direttamente le problematiche tecniche qualora si si presentassero avete a disposizione la chat appunto per per riferire problematiche il settore domande potete rivolgere domande anzi vi invitiamo caldamente a rivolgere domande o direttamente sul riquadro domande e noi appunto poi le faremo avere al docente alla fine della relazione potete già da subito se volete cominciare a scriverle oppure se preferite modalità senz'altro preferita anche anche da noi potete utilizzare la manina l'alzata di mano virtuale che trovate con la mano disegnata sul pannello di controllo che vi darà poi la diciamo la priorità a un certo punto per avere la parola sempre al termine della della relazione del dottor varese quando fate le domande vi chiediamo cortesemente sia che siano per iscritto sia oralmente di indicare anche il vostro ruolo e lente di appartenenza per poter comunque avere anche un riferimento per la risposta un pochino più più mirata avviso anche che la sessione è registrata quindi qualora faceste domande oralmente e non voleste per qualche motivo comparire basta che lo comunichiate poi al termine della della relazione e non c'è nessun problema a togliere diciamo quella parte direi che forse ho dato più o meno tutte le indicazioni vi manca mancano ancora quattro lezioni al termine del nostro ciclo di webinar considerando che questi webinar sono registrati trovate tutto il materiale pregresso quindi di tutti i webinar già realizzati sulla nostra pagina istituzionale al link che vi viene riportato nella chat approfitto per dire che sullo stessa nella stessa pagina nel stesso riferimento web della città metropolitana troverete anche una serie di altri materiali di formazione che si rientrano nell'ambito di un progetto più ampio sempre relativo ad acqua e territorio ma che prevede la formazione anche dei tecnici comunali quindi qualora foste interessati a diffondere ai tecnici dei vostri comuni o anche per voi stessi degli approfondimenti tecnici più o meno sugli stessi argomenti di che stiamo trattando ora siamo saremo molto felici di poter mettere a disposizione il tutto trovate già tutto sulle pagine web a questo punto lascio la parola al dottor varese e auguro a tutti una buona lezione e vi invito ancora a fare domande perché un'occasione importante di avere un docente a disposizione buona serata a tutti buonasera a tutti sono paolo varese vi parlerò questa sera dell'argomento che concerne la gestione della vegetazione fluviale allora il titolo del webinar dice i vantaggi di una corretta gestione della vegetazione fluviale per il fluviale per le comunità locali ho inteso d'accordo con gli organizzatori di mettere l'accento sulla questione vantaggi proprio perché l'aspetto della gestione fluviale al contrario visto come un problema come un ambito difficile da gestire a volte come un territorio di nessuno allora nell'ambito fluviale bisogna considerare che ci sono due dinamiche che interagiscono tra di loro la dinamica del corso d'acqua che è data dal ritmo delle piene delle zone periodi di morbida dei periodi diciamo più asciutti in cui il corso d'acqua è più tranquillo e la dinamica della vegetazione la dinamica della vegetazione di cui adesso parleremo e lo sviluppo della vegetazione in parte quella legnosa arbustiva ed erbacea che nel corso del tempo continua a avvenire e si modifica allora il capire dove vanno queste due dinamiche e interagire con esse nel senso che i gestori desiderano porta a essere una base di partenza importante per la gestione per il gestore in quanto si tratta di assecondare o di contrastare le dinamiche in corso la dinamica della vegetazione la si può interpretare in due modi ci sono una serie di dinamiche naturali che sono indotte dal fiume e quindi e sono date dai processi idromorfologici che il corso d'acqua compie processi idromorfologici sono tutti quei fenomeni di deposizione dei sedimenti di erosione di piene di periodi di minore deflusso delle acque mentre invece le dinamiche secondarie sono quelle indotte dall'uomo indotte dall'uomo che interagisce con l'ambiente fluviale in vari modi e in particolare con la vegetazione interagisce con la sua gestione con dei tagli oppure con altre interferenze o modalità con cui viene a che fare e nella dinamica della vegetazione come potete immaginare confrontando delle fotografie nel tempo vi sono delle fasi pioniere che sono caratterizzate in sostanza da salici pioppi in ambiente mediterraneo tamerici noi abbiamo la tamerice germanica è un piccolo arbusto che si rinnovano dentro il corso d'acqua subito dopo le grosse piene questi popolamenti crescono e formano delle fasi transitorie dove un po alla volta raggiungendo lo stadio arboreo vengono avvengono delle successioni e dentro delle altre specie che possono essere frassini qua erce olmi o anche specie invasive e portano poi alla formazione di fase mature caratterizzate dal legno duro specie a legno duro sono senza entrare troppo nei termini appunto qua erce gli olmi i frassini che durano e hanno una grande vitalità nel senso che durano molto a lungo una possono arrivare a alcuni secoli di vita mentre invece specie a legno tenore i salici e i pioppi hanno una veloce crescita iniziale ma poi dopo non sono così longeve e la maturazione vegetazionale è una cosa che voi vedete questo schema svilupparsi da sinistra a destra mentre invece l'intensità dei processi idomorfologici agisce in senso contrario fa regredire i popolamenti una volta interessati da dei processi come delle piene che depongono dei sedimenti o erodono via la vegetazione e quindi avvengono in senso normalmente inverso di quello della maturazione vegetazionale vi faccio un esempio vedendo qua dall'alto questo è un tratto del torrente pellice quello del ponte di monte bruno più o meno poco a monte di vigone tra osasco e cavour e vedete che lungo un corso d'acqua sono presenti diverse formazioni in genere più vicino al corso d'acqua quelle pioniera legno tenero i salici ad esempio e vegetazione erbacea quelle più indietro sono quella legno duro vedete sulla sinistra c'è scritto matura legno duro una specie di quercetto golenale che esiste di già da un bel po di tempo ci sono delle fotografie che trovate in archivio che dimostrano che quel bosco almeno un più di un secolo di età in mezzo ci sono queste fasi di transizione in particolare a piopponero a pioppobianco e ai margini ci sono anche dei popolamenti di sostituzione di specie che non sono originarie nostre in particolare la robigna la gersia in piemontese quindi la vegetazione si sviluppa in modo differenziato a seconda di una zonazione cioè di diverse zone qua avete le zone del corso d'acqua comprese nella fascia del pai quindi parliamo di una classificazione di tipo normativo in cui potete vedere la zona centrale dell'alveo dove scorre l'acqua chiamata alveo inciso una fascia spondale e delle zone più rialzate esterne che corrispondono andando sempre più verso l'esterno alle zone perifluviale ovvero quelle meno toccate dalla dinamica alluvionale e quindi il paesaggio fluviale è un qualcosa che muta muta sempre possiamo ad esempio notarlo da delle foto aeree comparandole negli anni io avevo a disposizione perché ci lavoro attualmente queste foto della confluenza tra il vara e il magra siamo in liguria orientale nell'entroterra di la spezia in cui mostra viene mostrata l'evoluzione di questi popolamenti nel giro di un ventennio circa nel 2000 c'è stato un grosso evento luvionale la come anche qua da noi e voi potete notare potete notare come in questi corsi d'acqua ampi il corso principale non è che passi sempre al centro come molti vorrebbero in particolare alcuni ingegneri o anche altre persone che immaginano che sia il corso d'acqua facilmente imbrigliabile in un modo desiderato ma può variare da una parte all'altra dell'alveo stesso e facendo questo lui cosa fa porta a modificare gli equilibri di sedimentazione all'interno dell'alveo si sviluppano certi popolamenti altri vengono portati via o piegati come vedremo e quindi le cose cambiano nel tempo in questo quadratino giallo voi vedete una zona che è presente marginalmente dove ci sono delle piccole lanche della e dell'acqua relativa a un braccio secondario che noi stiamo valutando nel tempo cosa è successo in seguito nel 2011 è stato un evento molto grosso quindi potete notare come abbia spazzato via una buona parte dei popolamenti e vedete anche anche nel 2016 dopo un evento che c'è stato nel 2014 il corso d'acqua si è spostato in sponda destra liberando una parte che nel quadratino nel rettangolo giallo vedete essere presente sempre lì ma un po modificata con una parte verde che corrisponde alla vegetazione erbacea più nera o la rinnovazione che si è venuta a formare quindi la vegetazione interagisce con le piene che si verificano nel tempo di tutti i generi da quelle annuale piene ordinarie a quelle più più importanti con un tempo di ritorno che una volta si diceva secolare ultra secolare ma poi vedremo come oggi sia difficile che condurre questi eventi di piena a un tempo di ritorno preciso proprio perché i cambiamenti climatici hanno modificato questa questa situazione allora qual è il comportamento della vegetazione all'interno dell'albero e i suoi margini quello più conosciuto è quello di rallentare la corrente rallentando la corrente sia la vegetazione erborea che erbacea che arbustiva fanno in modo che i deflussi abbiano una velocità inferiore in seguito un grosso ruolo della vegetazione quello di proteggere dall'erosione spondale sia i margini dell'alveo l'alveo stesso il fondo dell'alveo e facendo così rallenta la corrente questi sono dei casi in cui si vede come l'apparato radicale faccia in modo di conservare la sponda una piccola sponda naturale legata alla colonizzazione di una barra una barra ciottolosa sulla sinistra e una sabbiosa sulla destra rallentando la corrente la vegetazione permette la sedimentazione quindi dal momento che i corsi d'acqua in piena hanno un trasporto solido a volte importante a volte un po meno tutte le particelle più fine sono quelle che sedimentano per primo e quindi basta il fatto che ci siano degli arbusti di salici o della rinnovazione di pioppo nero come in questo caso per far sì che si creano queste varie sabbiose e il corso d'acqua sedimenta questi materiali di sull'alveo e non li trasporta più a valle un'altra cosa che fa è quello di trattenere i detriti legnosi per lo stesso motivo i detriti legnosi rallentando la corrente tendono a fermarsi e se c'è un ostacolo fisico costituito proprio dagli arbusti o anche dagli alberi vengono depositati lungo i suoi tronchi quindi ha una grossa utilità da questo punto di vista perché diminuisce il trasporto di detriti legnosi a valle e impedisce che questi vadano a finire in posti non si desidera che finiscano vedete sulla destra la situazione generale sulla sinistra il dettaglio la vegetazione poi ha un'altra un altro comportamento dal momento che quella dell'albero principale è marginalmente adesso è costituita da salicace e quindi salici di diverse specie e pioppi sostanzialmente questi hanno una caratteristica molto particolare quello di piegarsi proprio perché il loro fusto il loro tronco è abbastanza elastico non tutti sono capaci a farlo perché ci sono delle piante se voi provate a fare queste questo esperimento a parte si rompono si spezzano invece anche i giovani pioppi si piegano e quindi la vegetazione rimane in quel contesto si si piega e poi dopo ricaccerà questo permette di spiegare come non tutto il gli arbusti e gli alberi che sono impattati dalla piena vadano portati via dalla carrente una buona parte spesso la maggior parte rimane lì allora al contrario invece se esiste una sponda in erosione ad esempio nelle zone concave dei corsi d'acqua oppure semplicemente delle zone in cui il corso d'acqua inciso il livello rimane rialzato per il corso d'acqua inciso e cosa succede succede che la corrente scava da sotto e letteralmente porta via la terra sotto i piedi delle radici qua vediamo un pulamento di robinia e questa robinia una volta che l'acqua di scava sotto cade cade in alveo a volte sta lì a volte viene portata via è una situazione limitata a piccoli settori ma è una situazione che esiste poi cosa succede dopo una piena un grosso deposito alla vegetazione cosa fa si rinnova si rinnova perché durante il periodo primaverile dalla fioritura poi si originano i semi delle varie salicace che si rinnovano attivamente nelle zone un po più umide dove c'è da esempio della sabbia umida qua vediamo del salice purpuro del salice bianco e ormai che avrà due anni d'età che si rinnova su questi depositi sabbiosi su cui il seme è stato poi deposto altra funzione della vegetazione è una cosa diciamo che è stata la virgolette scoperta recentemente e quello di recentemente siamo negli ultimi decenni e perché sono cose note a livello scientifico da un po di tempo quello di intercettare trattenere una parte degli inquinanti e dei nutrienti di origine agricola che arrivano dai campi che voi vedete ad esempio sulla destra sulla sinistra di questa di questa immagine ad esempio azoto dentro fosforo di intercettare le prime che finiscono in acqua qual è il vantaggio di quest'azione è che i corsi d'acqua in questo caso non si caricano di nitrati ad esempio e di altre sostanze che hanno poi un valore inquinante in certi contesti addirittura la vegetazione assorbe delle sostanze tossiche e in questi ultimi decenni si è visto come hanno questo questa funzione di si chiama fito rimedio in inglese fito remediation di trattenere le sostanze inquinanti e vengono quindi usate in certi ambiti per la bonifica di aree inquinate allora questo succede sui corsi d'acqua in fondo valle e poi ci sono alcune cose che succedono in particolare nei piccoli bacini montani ed è il caso questo che vedete nell'immagine legato all'erosione al piede quindi un fenomeno simile a quello che abbiamo visto sulle zone di erosione nelle zone concave dei corsi d'acqua di fondo valle in cui un intero versante finisce in acqua come finisce in acqua finisce l'acqua perché il corso d'acqua toglie via diciamo l'appoggio che aveva sul versante erodendolo e viene giù tutto il versante specialmente dopo lunghe piene questo 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 terreno questa terra fine e imbibito d'acqua molto pesante e con la via e forma le cosiddette colate di fango e venendo via la terra viene tutto via quello che c'è che c'è sopra alberi compresi e quindi capiamo come mai da ad esempio in questi ultimi avvenimenti che sono avvenuti ai primi di ottobre no presente certamente la zona di limone la zona della valtano e quello che è successo in costa azzura voi trovate sulle spiagge anche delle specie che normalmente non sono presenti lunghi corsi d'acqua sulla destra nella fotografia vedete dei tronchi rossi che sono dei tronchi di pino silvestre pino silvestre arrivano dalla alta valle della roia e sono stati rinvenuti fino sul litorale di ventimiglia questo è un tipo di trasporto abbastanza frequente ed è quello che provoca più danni perché l'impatto di tanta acqua e di tanti sedimenti specialmente quelli più grossolani ha un effetto molto molto importante quindi noi troviamo anche lungo il corso d'acqua delle specie ad esempio conifere ad esempio del castagno ad esempio dei tigli che non sono presenti all'interno dell'alveo ecco nel non sempre la vegetazione viene portata via quindi anche nei territori montani ma vediamo il caso di un popolamento ripario a base di pino silvestre di larice presenti in alta val susa ha la possibilità di trattenere dei detriti anche grossi quindi a questa funzione specialmente ai margini per poi al centro dell'alveo la corrente così forte che succede che già di per sé non c'è vegetazione quindi la corrente a via libera alcuni sedimenti vengono trattenuti da questi gruppi di alberi altre volte invece non ce la fa la vegetazione e quindi viene travolta da dalle piene e dal materiale solido che è presente nella corrente e ci troviamo avere a che fare con delle situazioni in cui poi il legname può rimanere lì o addirittura viene portato via l'intero fondo del vallone questo sono questi fenomeni sono molto gravi perché oltre a provare a provocare diciamo l'instabilità dei bassi versanti il trasporto solido importante ci vogliono delle anni per cicatrizzare queste grosse ferite nel 2008 è successo questo in diverse situazioni ad esempio in valpellici vengo dalla valpellici vela pellice sul rio cassarote è successo così in altre situazioni sempre riferito alla valpellice fu così nel 1977 da alcuni piccoli bacini montani sono i valloni dell'imeut della biava in alta valle in valle d'aosta nel 93 in tante altre situazioni è successo ad esempio nel 2000 un po ovunque ad esempio anche nei bacini appenninici allora abbiamo visto come si comporta la vegetazione spesso sono tornato sulla mail precedente ci sono delle situazioni in cui la vegetazione aiuta a trattenere questi detriti altri in cui ne è travolta e tradotta dalla corrente abbiamo visto come arrivi del legname anche da versanti da zone non presente in alveo e su questo a livello gestionale occorre fare un passo in avanti rispetto a quello che comunemente viene definito come pulizia pulizia fluviale che è un termine non adeguato perché è un termine troppo generico e descrive delle operazioni di gestione che non dicono nulla di particolare proprio perché è molto varia la situazione di situazione che esistono nella realtà esiste una grande complessità poi in secondo luogo perché la vegetazione non è qualcosa di sporco al pari dei sacchetti di plastica delle immondizie delle carcasse di auto che troviamo in auto in alveo in seguito proprio perché eliminando completamente la vegetazione legnosa si rinuncia quindi a degli altri benefici e dei vantaggi sui quali io vorrei sottolineare a voi oggi in questo webinar e una serie di funzionalità che la vegetazione fluviale ha che sono ormai dimostrate da tempo quindi ultimamente alla ricerca ha messo l'accento su questi aspetti qua e quindi il termine pulizia sta a indicare dei luoghi comuni che sono portati avanti ma che non hanno un valido fondamento pulizie fluviali effettuate nel passato quali sono le conseguenze che è stato possibile notare ad esempio lo sviluppo e la proliferazione di specie esotiche invasive qua abbiamo un esempio di poligono giapponese che è stato da prima si è proceduto una pulizia fluviale eliminando tutta la vegetazione in seguito negli anni seguenti è esplosa e esploso sono quella per la vegetazione che vedete in bianco sono i fiori di questa pianta che insieme alla robinia e altre specie invasiva ha praticamente cambiato l'assetto di questo piccolo corso d'acqua che è assolutamente ostruito da attualmente dalla vegetazione quindi ha portato a dei problemi più gravi di quelli precedenti stessa cosa avviene per l'albero delle farfalle e quella pianta con quei bei fiori blu violetti che voi trovate lungo i corsi d'acqua ciottolosi specialmente fondo valle e in montagna si chiama bud lei e davidi anche questa è una pianta invasiva di origine asiatica la robinia e di origine la garzia è ben conosciuta origine nord americana l'ailanto anche questo è asiatico sono tutte specie che approfittano di queste situazioni qua e poi nel prossimo webinar degli esempi aggiuntivi un altro problema che si è potuto constatare riguardo alle conseguenze delle pulizie fluviali e l'annullamento del ruolo filtrante della vegetazione quindi quanto abbiamo detto sul trattenere sia i sedimenti che i nutrienti e anche quello anti erosivo qua ci troviamo in un caso in cui addirittura sono state sradiche sradicate le ceppaie di piante è una cosa assolutamente negativa in pratica si è consegnato i sedimenti che la vegetazione attraverso le radici tratteneva la prossima piena e quindi verranno portati via un'altra conseguenza delle pulizie fluviali abbiamo detto quello dell'annullamento di questi servizi di autodeporazione ma anche di quelli di fruizione che spesso sono già scadenti in condizione di elevata antropizzazione allora è chiaro che in piccoli corsi d'acqua di questo genere opportuno non consentire una crescita eccessiva della vegetazione quindi un intervento di manutenzione deve essere fatto ma la completa eliminazione porta anche a un impoverimento non solo biologico ma anche delle altre funzioni di un corso d'acqua come questo che è già molto artificializzato quindi necessario un cambio di mentalità sia perché dal momento che la vegetazione è in genere percepita dall'opinione pubblica in modo così un po' angosciante da una percezione di insicurezza che è un aspetto psicologico più che un aspetto tecnico scientifico sia perché facendo queste pulizie spesso non si conosce quello che succede e quindi si ha una conoscenza generale sui processi naturali e sui gli organismi che sono presenti in questi popolamenti assolutamente scarsi ci sono delle conseguenze che abbiamo visto possono essere peggiori la cura può essere peggiore della malattia poi un altro problema è che la diciamo le azioni sui fiumi vengono spesso fatti con una visione molto settoriale cosa vuol dire vuol dire che il l'ingegnere o il geometra che si occupa di un certo di una certa operazione sui corsi d'acqua o non parla con il botanico non parla con il tecnico forestale tecnico forestale non parla con qualcun altro col faunista ad esempio e quindi non ci si scambia quelle informazioni che sono importanti da un punto di vista proprio della gestione del corso d'acqua e magari loro non parlano col geologo che il geologo non parla con un vegetazionalista e quindi esiste una scarsa integrazione tra le diverse discipline nell'ambito della gestione del territorio questo non solo in ambito fluviale si è chiesti se una volta era diversa la situazione una volta era forse meglio io allora ho la fortuna di visto che parliamo di un secolo fa oramai testimoni diretti non ci sono quasi più è molto importante poter avere delle fotografie d'epoca e ho la fortuna di avere un archivio ma dalle mie parti a torre pellici un archivio storico che permette di fare un piccolo una piccola indagine su come erano i corsi d'acqua e i versanti più di cent'anni fa i boschi praticamente non c'erano lo sappiamo che adesso forse ce ne sono anche troppi ma un tempo la pressione demografica sulla montagna la necessità di coltivare dappertutto perché la popolazione era molto elevata le condizioni di estrema probabilità durante il periodo di economia di sussistenza si cercava di coltivare e di pascolare dappertutto quindi c'erano pochi boschi sui versanti e c'era molta erosione noi vediamo sulla destra i versanti caratterizzati da delle conoidi detriti che cosa vuol dire che c'erano franne dappertutto quindi nonostante ci fosse questo questa cura da parte dell'uomo in particolare nel fare ad esempio moretti a secco e andare a canalizzare corsi d'acqua in piccoli ruscelli no e mantenerli con quelle che le nostre parti si chiamano roide e quindi un'azione di mantenimento di questi piccoli sia delle piccole opere d'arte che dei muretti stessi c'era una grossa erosione proveniente dai versanti proprio perché i boschi non riuscivano intercettare le piogge e si creavano dei fenomeni erosivi molto importanti e succedeva lo stesso che sul territorio non c'erano dei problemi sulla destra un ponte la cui spalla è stata portata via 1920 esattamente 100 anni fa sulla sinistra sempre una foto relativa alla valpellice potete vedere che il corso d'acqua in corrispondenza del piccolo abitato che vedete al centro della foto che vi dar pellice aveva una anche capacità erosiva importante aveva un albero piuttosto ampio già allora e sulle montagne del fondo valle vedete delle zone in erosione sulla sinistra è una vecchia cava in attività che mostra come l'impatto sui versanti in assenza di superfici boscate in quel caso lì poi un po ce n'erano è ma molto meno che oggi questo poteva avere un effetto importante sui dissesti e i fiumi erano forse pulite o mantenuti come si crede oggi no vediamo due foto in cui si proprio proviamo che la situazione era molto simile a quella attuale se veniva presenti a prelevato del legname questo era per necessità perché essendocene poco sui versanti era molto comodo andarlo a prendere dopo una piena per il giavello lì tagliato oppure perché c'era la possibilità di tagliarlo in zone naturali lungo il corso d'acqua che erano delle zone in cui esistevano le stesse specie di oggi pioppi salici eccetera eccetera abbiamo sulle sinistra una foto sul pellice poco sopra bilar pellice sopra bobbio pellice 1896 e nel 1907 il sangone il sangone oramai in pianura nei pressi credo di beinasco quindi non esiste alcuna prova storica di questa presunta attività di manutenzione sui corsi d'acqua a parte appunto la presenza di un'attività manutentiva sulle zone coltivate grazie alla reide grazie alla messa in funzione di restauro di questi muri a secco che erano presenti sul versante e quindi non essendo così c'era forse più sicurezza probabilmente no ci sono molti esempi di eventi tragici come questo sempre dal 1920 la grossa differenza rispetto a oggi che c'erano molto meno beni esposti al rischio sapendo che c'erano queste piene non si andava certo a fare a parte i mulini delle case vicino ai corsi d'acqua ma alcune case che erano messe vicino in occasione di grossi eventi di piena come questo del 1920 furono anche lo stesso portatevi e ci furono diversi morti diverse famiglie sono 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 state praticamente estinte in questo villaggio di bobbio predici in eventi molto molto gravi vedete la pianura al fondo valle completamente ricoperto da detriti e anche di tronchi questo è mi sembra da vedere così un castagno che è arrivato da monte oppure era presente lì sul versante ed è venuto giù quindi occorre uscire da questi luoghi comuni che ci vengono puntualmente presentati durante le interviste sui giornali eccetera e quindi non esiste un età del loro dove era perfetta la manutenzione del territorio c'era un'attenzione a quello che serviva a quello che gli agricoltori e i montanari facevano quindi al mantenere la terra all'interno delle loro terrazze andavano diverse volte all'anno a portarla da valle a monte per questa con le piogge scendeva e alla manutenzione di piccoli di piccoli lavori quindi di piccoli manufatti come murette a secco e le bialere quindi la pulizia dei fiumi e il loro dragaggio come si sente dire oggi sono in realtà proprio delle fake news questa è una cosa che non esiste ma ecco qualcosa si può fare si deve fare e quali sono gli interventi che è opportuno effettuare quindi abbiamo visto alcuni errori che sono stati commessi così nel recente passato che a volte vengono rifatti oggi quindi considerare un corso d'acqua come un insieme indifferenziato il corso d'acqua è tutto lo stesso la vegetazione è tutta la stessa considera la vegetazione riparia come un'unica identità non è vero specie diverse reagiscono in modo diverso e quindi poi avere un approccio statico della gestione alla gestione nella gestione si pensa che si facciano degli interventi risolutivi questi interventi non sono mai risolutivi bisogna sempre ritornare sul posto e metterci una pezza specialmente quando si vive troppo vicino al corso d'acqua e quindi occorre pensare ripensare al nostro modo di porsi rispetto ai corsi d'acqua occorre quindi avere una filosofia di intervento piuttosto variegata e avere degli interventi differenziati innanzitutto riuscire a definire aree di vegetazione fluviale differenti legate a un contesto dinamico dei processi differenziati e costituito da popolamenti diversi proprio questo perché reagiscono in modo differente in certi casi occorre tener conto che ci sono delle aree naturali dove se l'uomo non è troppo intervenuto le cose vanno parti da sole per esempio nei sic anche se abbiamo diversi sì che sono fortemente antropizzati laddove presente un corso d'acqua che funziona bene perché piuttosto naturale ad esempio il ticino che voi vedete qua raffigurato se il corso d'acqua in equilibrio e se c'è sufficiente spazio non è utile intervenire è molto più utile lasciare aspettare vedere cosa succede perché c'è spazio e la vegetazione sa reagire in modo opportuno al contrario ci sono delle situazioni problematiche perché ci sono delle strutture ovvero dei popolamenti di alberi gli arbusti che sono a rischio hanno dei problemi e quindi sono popolamenti collassati vuol dire che i popolamenti muoiono in piedi questo succede per il salice bianco la robina l'ailanto perché dopo un po invecchiano prematuramente specialmente se sono non più in contatto con la falda la falda è l'acqua che scorre nel sottosuolo no quindi ci sono dei popolamenti che depiriscono ad esempio dei querceti questo da diversi decenni che non hanno più il contatto delle radici con la falda stessa con la falda fluviale questo perché c'è stata dell'erosione sul fondo del corso d'acqua e la falda si approfondita e poi ci sono i popolamenti dell'octone che vedremo e di cui faremo un breve cenno alla fine di questo webinar ma che verranno poi trattati in seguito nel webinar della settimana prossima quindi avvengono dei blocchi che si chiamano blocchi dinamici che fanno in modo che la vegetazione non evolva e rimanga in quel modo li e depirisca sul posto cosa sicuramente non auspicabile qual è la modalità di intervento questo mi scuso è una foto in francese ma non ce l'avevo in italiano la modalità di intervento e di eseguire degli interventi differenziati lungo corso d'acqua proprio perché il corso d'acqua è molto molto diverso in questo documento voi potete leggere come su questo corso d'acqua ci sia delle strategie diverse ad esempio evitare che si formano degli accumuli di legno di legno morto in altri tratti in altri tratti quello invece il contrario quello di rallentare la deflussi e preservare la fauna e la flora in altri siti c'è la possibilità di avere delle strutture di loisir sono di fruizione lungo il corso d'acqua eccetera eccetera quindi ci sono delle obiettivi da raggiungere differenziati a volte anche diversi proprio opposti sul medesimo corso d'acqua come quello di favorire i deflussi e in altri casi in altri settori quello di rallentarli quindi il corso d'acqua oggi si presta a essere gestito in modo multifunzionale proprio perché coesistono diverse funzioni su un tratto omogeneo di corso d'acqua e quindi si tratta ad esempio di individuare la funzionalità prevalente che quello che abbiamo visto nella slide precedente e di considerare le altre funzioni come secondario accessorio la multifunzionalità quindi il fatto di avere diverse funzioni e diversi servizi che il corso d'acqua fornisce diminuisce col crescere dell'antropizzazione più un tratto naturale quindi naturaliforme vuol dire che è più simile alla natura più è da conservare e quindi fornisce più funzionalità più un tratto artificializzato e quindi è a rischio di diciamo di non riuscire a essere autonomo più occorrerà fare della manutenzione fino a questi corsi d'acqua che sono fortemente artificializzati quella è una sigla in inglese che non vi sto a dire che sono tratti come i canali con bordi con argini in cemento e fondo anche cemento che sono completamente artificializzati e vanno gestiti in un modo diverso e anche è stata in questi ultimi decenni un'evoluzione di pensiero nei trattamenti a scopo idraulico quindi dall'officiosità idraulica ovvero quello di favorire il più possibile il deflusso delle acque si è passato a una o questo dappertutto a una visione un po' differenziata per cui il corso d'acqua non è solo più una sezione in cui il flusso d'acqua deve transitare nel modo più rapido possibile ma adesso avviene con questi ultimi tratti continua a esserlo così in altri tratti invece si associa una funzionalità protettiva in cui la vegetazione ha un grosso ruolo ovvero quello di consolidare le sponde dell'alveo o del fondo del corso d'acqua quindi ci si è chiesti come possiamo fare per riuscire a rendere la vegetazione alleata alleata degli intenti che noi vogliamo avere quindi si è ragionato molto sul ruolo protettivo della vegetazione quindi il suo ruolo rispetto all'erosione alla scabrezza che la vegetazione ha la scabrezza è quello che determina il rallentamento della dell'acqua lungo il corso d'acqua quindi un corso d'acqua liscio come un biliardo ha poca scabrezza e la velocità della corrente è molto elevata un corso d'acqua con della vegetazione o con degli elementi anche litoidici o dei blocchi rallentano abbastanza la vegetazione quindi determinano certi processi ci si è poi appunto interrogati sulle varie ostruzioni di sezione che possono essere presenti lungo i corsi d'acqua sul ruolo dei detriti legnosi e effettivamente si è arrivati a una definizione più variegata di questo che viene definita ufficiosità idraulica ci si è resi conto che si può agire col trattamento della vegetazione per scopi multipli sia per ad esempio favorire il deflusso dell'acqua ma anche per frenare il deflusso dell'acqua si può agire per evitare l'erosione o al contrario per limitare o evitare l'apporto di legname questo dipende dalle caratteristiche del corso d'acqua dei vari tratti dalla vegetazione presente in francia dove io ho lavorato più di circa dieci anni c'è una filosofia che è in voga da un ventennio che dice che è più questo qua non è solo una filosofia è una constatazione tecnico scientifica più l'alveo e ampio il bosco ripario e ampio anche esso meno è utile la manutenzione la manutenzione non serve quindi di conseguenza la manutenzione serve soprattutto nei corsi d'acqua piccoli e nei corsi d'acqua più antropizzati quindi questo è un po anche la filosofia che ha ipo una volta ha ipo adibipo l'autorità di bacino del fiume po sta cominciando a considerare nella sua politica di intervento io in questa presentazione non volevo presentarvi delle formule delle cose così ma vi faccio solo un piccolo esempio per sapere che anche livello sperimentale si è arrivato a definire alcuni parametri che ci aiutano per identificare le soluzioni che noi possiamo portare avanti nei corsi d'acqua ad esempio c'è una relazione molto stretta tra la forma la sezione diciamo della larghezza del corso d'acqua e la sua profondità per cui c'è una formula che ci dice che a seconda che sia inferiore o superiore a 10 questo questo parametro ci permette di differenziare il ruolo che la vegetazione ha nel corso d'acqua un altro legati agli studi che fa l'università di firenza fatto recentemente che vanno nella stessa direzione di tutti gli altri laboratori e dipartimenti scientifici direi d'europa e del mondo ha mostrato che i grossi tronchi diciamo i tronchi durante una piena presenti in albero nelle zone dove c'è una fuoriuscita dell'acqua durante i periodi delle piene non influenzano il tirante il tirante significa l'altezza dell'acqua presente in quel posto dell'albero se sono debitamente distanziati quindi senza entrare in questi particolari vi dico solo che ci sono questi parametri che aiutano il tecnico e che ancora purtroppo non sono molto conosciuti ma esistono avete visto nel 2005 o meno da 15 anni detto questo quali sono le strategie generali per la gestione della vegetazione fluviale sono due la manutenzione ordinaria e poi quella che vedremo dopo le cure minime e esse si differenziano per un certo numero di punti allora dove è utile effettuare della manutenzione da un punto di vista della manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua minori specialmente se artificializzati specialmente se in situazioni in cui ci sono delle criticità qual è la modalità in cui questa manutenzione ordinaria viene portata avanti e quello dell'approccio selettivo dalla vegetazione e accompagnato della seduazione ciclica della vegetazione stessa cosa vuol dire vuol dire che si scelgono le piante che forniscono una maggiore stabilità vengono rilasciate vengono tagliate eventualmente delle altre e in certe situazioni si taglia il bosco come fosse un ceduo e quindi si permette poi di ricacciare in seguito nel tempo se ricacciano molto velocemente quindi questi interventi vengono fatti anche a volte dando un'occhiata a quello che succede nella zona per il fluviale dove possono essere portati avanti di interventi di tipo selettivo che adesso vediamo poi nel dettaglio questo perché perché con questa strategia di una manutenzione si cerca un compromesso tra le esigenze di sicurezza e quello di conservazione della naturalità e la naturalità non è solo per far piacere agli ecologisti del salotto come viene detto in alcuni alcuni contesti la naturalità è una condizione importante per il buon funzionamento del corso d'acqua abbiamo visto in precedenza tutti i servizi che un corso d'acqua fornisce un corso d'acqua naturale qual è la possibilità di intervenire sui corsi d'acqua in questo modo con delle riceduazioni con dei turni ovvero con una scadenza più o meno variabile tra i 5 e i 7 anni per le salicaci e la robinia un po di più per le altre specie che possono essere presente nelle zone più rialzate 10 15 anni ecco questo un esempio pratico di quello che è il criterio della selettività nella manutenzione ordinaria possono essere effettuati dei diradamenti moderati che portano in primo luogo all'eliminazione delle piante schiantate o fuori asse in particolare questo appunto sui piccoli corsi d'acqua in altre situazioni il diradamento da moderato può passare a un livello più energico dove vengono tagliate anche altre piante che poi ricacceranno spesso questo per favorire dei flussi questo è un schema dell'intervento che viene effettuato quindi la situazione prima dell'intervento e la situazione dopo l'intervento tutte queste immagini sono tratte da un manuale di cui poi vi presenterò che in piemonte è presente già da anni nel 2008 è stato edito a regione piemonte dei pla ho lavorato all'inizio per questo per questo manuale questi discorsi si fanno a livello tecnico scientifico più o meno dalla seconda metà degli anni 90 quindi da ben più di vent'anni un'altra modalità di intervento è quello di stabilità di privilegiare la stabilità dei popolamenti legnosi cosa vuol dire vuol dire che dei popolamenti che crescono molto fitti sono caratterizzate da piante filate che hanno un elevato rapporto tra l'altezza della pianta e il diametro quindi sono molto fragili e c'è un parametro di cui adesso io ve l'ho accennato ma è importante saperlo che ci permette di capire quando un popolamento è instabile cosa succede succede che vengono spesso rilasciate come succede anche nei nei cedui che vediamo in montagna nei cedui di faggio delle matricine che poi dopo alla prima caduta di nevo di vento si piegano e si rompono in alcuni casi addirittura il solo peso delle foglie visto che l'intervento viene fatto in inverno a piegare la pianta e quindi la funzione per cui quella pianta era stata selezionata non c'è più quindi è importante avere dei popolamenti stabili che siano resistenti proprio perché sono in grado di trattenere sedimenti e detriti legnosi in modo molto più efficace la manutenzione serve ma non può tutto abbiamo parlato prima delle collate di fango ecco due esempi e la potete vedere anche da distante con queste specie di corridoi che sono stati diciamo di sboscati per la porta di questa colata sulla destra una foto relativa alla valle del magra quindi in provincia di massa carrara sotto il passo della cisa se attorno agli anni 2000 dopo l'evento 2000 passavate in valle d'aosta voi vedevate la medesima cosa in un bosco di pino silvestre salendo verso osta sulla sinistra perché è venuto via scivolato è lungo il versante tutto il terreno e il bosco che c'era sopra e questo finito nel corso d'anno quindi gli interventi servono nella manutenzione ma hanno anche dei limiti servono a mitigare più che a mettere in assoluta sicurezza il territorio quindi questo mito della sicurezza assoluta è un'altra assoluta proprio perché il rischio zero non esiste c'è sempre un rischio che in qualche modo bisogna correre e questo qua è lasciato comunque diciamo agli eventi che avvengono ci sono alcuni processi morfologici su cui si può fare molto poco in particolare quelli che sono avvenuti i primi d'ottobre ma ne ricarleremo poi dopo nella manutenzione è utile integrare le operazioni serviculturali anche con l'integrazione di alcune opere ingegneristiche queste che vedete sono fatte in valsusa dove ricorda vi ricorderete ci fu un grosso problema dai versanti dopo l'incendio del 2017 ci furono delle piogge violente e ci furono delle colate di detrito su bussoleno in quella zona è importante che queste opere che devono trattenere il legname che viene portato giù insieme al terreno siano piuttosto elastiche perché se no se sono troppo origine possono essere portate vie senza senza problema come è già successo in altre situazioni anche le opere ingegneristiche non sono onnipotenti bene passiamo alla seconda strategia questa cosiddetta di cure minime perché si rifà quanto viene fatto sui boschi di alta montagna dove esiste una strategia di tipo serviculturale che al nome analogo di cure minime dove può essere effettuata nei corsi d'acqua ad ampio alveo di piena quindi in un posto dove sul fondo valle le piene possono defluire e laminare tranquillamente nell'alveo e eventualmente anche in terreni circostanti come vengono attuate queste questi interventi sono si tratta di interventi non continuativi ma localizzati sono interventi precauzionali che vengono fatti particolare vicino a dei manufatti sensibili ad esempio alcuni argini alcuni ponti che sono caratteristiche caratterizzati da fragilità strutturale strutturale e sono simili a quelli della manutenzione con questi si può mitigare l'afflusso di legno morto ad esempio andando a tagliare le piante che abbiamo visto essere presenti di zone spondali in erosione questi interventi sono più efficaci se sono effettuati a gruppi a piccoli gruppi insieme strutturali per evitare di isolare delle piante che poi dopo come abbiamo visto spesso si si piegano e si rompono quindi l'approccio selettivo può essere utile solo per alcune specifiche funzionalità è una cosa che occorre considerare che anche se non si fa niente vuol dire che non si vuole fare niente è importante in questi corsi d'acqua più ampi di pianura di fondo valle riuscire a monitorare la situazione perché il monitoraggio è proprio un intervento che fa parte di una modalità gestionale vuol dire stare lì a guardare col cannocchiale ma stare a vedere cosa succede lungo il corso del tempo perché dei piccoli interventi possono fragilizzare delle situazioni come al contrario degli apporti di sedimenti possono curare tra virgolette delle zone che prima erano in erosione se vi è stato un cambiamento di questo genere quindi importante monitorare le situazioni vedremo poi come quindi monitorare non vuol dire non fare nulla vuol dire controllare una situazione in evoluzione quindi ruolo del monitoraggio oggi è molto facilitato da alcune caratteristiche tecnologiche che hanno assunto ad esempio le immagini satellitari e i droni coi droni e con da satellite si può tenere sott'occhio degli interi corsi d'acqua andando a vedere dove ci sono delle situazioni importanti quindi queste nuove tecnologie legate poi a delle basi dati cartografiche delle quali noi possiamo andare a vedere cosa è successo in quello stesso sito negli anni ci danno una mano importante poi adesso vi faccio un rapido accenno sui trattamenti legati all'incremento di valore della biodiversità degli abitanti pari sappiamo tutti che specialmente chi va pesca io sono un ex pescatore i pesci si rifugiano hanno dei rifugi e dove non ci sono rifugi di tipo grossi massi o cose del genere le radici degli alberi sono importanti quindi le radici degli alberi e alcune chiome di argusti che sono presenti lungo il corso d'acqua è bene a mantenerli perché costituiscono un riparo importante per la fauna etica analogamente nelle zone ripari e dove non essi non costituiscono un fattore di rischio anche certi legni morti certi tronchi certi totem come vengono definiti sono importanti perché mantengono ad esempio la presenza di organismi vari dal picchio a i chirotteri chirotteri sono i pipistrelli che sono dei pipistrelli che vivono in queste cavità degli alberi e i pipistrelli ci aiutano a diminuire la quantità di zanzare le zanzare vengono divorate zarzale e farfalline vengono fanno parte dell'alimentazione dei pipistrelli quindi i pipistrelli nonostante tutte le credenze popolari sono un elemento utile e come questo anche parliamo di garzaie di specie vegetali ospiti per altri insetti eccetera quindi specialmente nell'ambito natura 2000 quindi nei sì le zone di speciali conservazione mantenere ogni tanto qualche grosso albero morto se questo non è un rischio è utile ecco parliamo proprio di legno morto di detriti legnosi e la loro interazione ad esempio con i ponti è la classica immagine che il primo telegiornale che voi vedete da di una inondazione di un alluvione i tronchi morti accattastati o accumulati lungo un ponte il pilone di un ponte su questo esiste una ricerca nel mondo oramai anche più che ventennale e ci rendiamo conto che questo è un aspetto soprattutto culturale psicologico più che un aspetto di rischio allora è raro che siano crollati dei ponti non è presente con la volta quando erano fatti di legno per l'impatto del legname che va accumularsi oggi il rischio può essere eventualmente quello di deviare alla corrente in zone dove non opportuno che la corrente vada quindi occorre combattere questa immagine ansiogina è una grande responsabilità e dei mass media quindi devono smettere di inquadrare il primo trocco anche piccolino che va durante una piena per questo aumenta la sensazione di ansia che è presente nel pubblico e nella opinione pubblica cosa si può fare si gestire delle aree come abbiamo visto precedenza vegetate dove questi tronchi e questo legname flottuato vada a depositarsi questo in pianura e nel fondo valle soprattutto come potete vedere quando le acque sono grosse escono anche nella zona per il fluviale oppure nelle zone marginali dell'aglio stesso e vanno a depositarsi in zone tranquille dove eventualmente possono essere poi rimosse quindi questo è tutto legname che non finisce a valle lungo ad esempio delle centraline centraline che possono essere presenti lungo dei ponti fragili eccetera quindi è importante a livello pianificatorio di individuare queste aree di deposito come si può arrivare ad incidere perché poi il recupero di questo lineare morto è anche molto costoso lo sanno benissimo gli amministratori si può provare a organizzare delle modalità partecipative come viene fatto in altri paesi europei ad esempio modalità di custodia che è una modalità di partecipazione dei cittadini alla gestione del territorio della biodiversità in un quadro gestito da un punto di vista tecnico scientifico quindi basandosi su dei dati reali tecnici nei quali alcune associazioni oltre a pulire il corso d'acqua dalle varie immondizie che sono presenti possono concorrere a rendere a rendere anche più abitabile e smaltito questo eccesso di detriti legnosi ma prima di tutto quando si parla di legno morto bisogna capire da dove arriva abbiamo visto come in molti casi e lo vedete bene nella foto a destra dove c'è un versante che cosiddetto affranapoggio nel quale quando il suolo diventa molto imbibito d'acqua viene giù tutto quindi in occasione di queste lave sorrentizie dobbiamo riuscire a valutare anche che è proprio da lì che arriva una gran parte del legno morto presente in alveo proprio perché in alveo spesso la vegetazione di salicacea si piega e non viene portata via poi in alcuni casi abbiamo visto viene portata via da alcune zone in erosione ma quello è un aspetto decisamente minoritario e poi c'è l'aspetto dei manufatti quindi ponti dighe argini prese idriche eccetera che spesso vengono ingombrati da questi detriti fino ad ora si è fatto uso di criteri molto empirici cioè basati sull'esperienza piemonteggia si direbbe a steam valutando l'altezza delle piante rispetto alla larghezza dell'alveo quindi opportuno che le piante nei pressi dei ponti non siano alte due volte più di due volte la larghezza dell'alveo sono si incastrano la luce sotto i ponti altro aspetto oppure dei criteri standard si dice si taglia raso lunghi ponte soprattutto a monte a valle per 50 o 100 metri con delle indicazioni molto casuali e quindi occorre fare delle valutazioni caso a caso a volte si esagera un po perché anziché magari basterebbero 50 metri di taglio si taglia per un chilometro ma questo qua è un altro discorso la sfida odierna è quello di riuscire a affrontare la questione in termini tecnico scientifici andando a indagare le caratteristiche della vegetazione in relazione ai ponti vedete sulla foto a sinistra è un ponte come quello molto alto non ci sono grossi problemi di ingombro e un ponte quello di mezzo si è un ponte molto basso e quindi rischia di creare dei problemi ed è bene che a monte non ci sia della vegetazione se non quella bassa gustiva un altro esempio è dato da dei ponti a diverse il don con diversi piloni in diverse arcate in radio quindi nella nostra valutazione un altro aspetto quello di capire se più a posto la vegetazione fluviale che noi spesso andiamo ad eliminare oppure delle opere che sono assolutamente inopportune come questa zona tombata vedete distretti molto stretta nel quale è impossibile che passa il deflusso di piena o delle zone turistiche situate a bordo fiume altro aspetto è quello dei piloni in erosione noi abbiamo degli interi settori di corsi d'acqua con erosione di fondo cosa vuol dire vuol dire che l'erosione a causa sia di disalvei che di eventi ha portato via il materasso alluvionale e cominciano a parire le fondamenta questo è un grosso problema perché come avete visto anche nel webinar della mia collega Elena Dan la settimana scorsa se vengono portate via la fondamenta del ponte il ponte crolla questo è già successo diverse volte molto di più di altre situazioni in cui la vegetazione viene detta responsabile del crollo cosa occorre in questi casi occorre fare in modo che il corso d'acqua riacquisti quei sedimenti quindi è importante che in quelle situazioni magari non attaccato al ponte ma un po più a valle ci sia della vegetazione che trattiene i sedimenti in modo da recuperare quella quel livello che è andato perso con l'erosione quindi ci sono diversi approcci che sono di approcci che sono differenziati a seconda che il corso d'acqua sia piccolo ampio artificializzato naturale ma vedete delle situazioni in cui la manutenzione e l'asporto del legname assolutamente necessaria in piccole in piccoli corsi d'acqua in zone tropezzate e sulla destra avete un esempio di opere che vengono effettuate anche su dei corsi d'acqua torrentizi importanti per trattenere questo legname questa foto è riferita a una zona monte di brunico dove ci si trovava spesso avere a che fare con degli abeti rossi dei pini silvestri che venivano portati giù non dalla corrente ma dalle frane presenti sui sui versanti concludiamo con alcuni casi particolari che non concernono troppo la sicurezza tranne sui piccoli canali di pianura dove il trattamento a capitozza o a sgamollo dei salici è una cosa tradizionale non ci si può permettere di avere della vegetazione arborea in questi questi contesti ma capitozzando questi salici è un elemento sia tradizionale che di fornitura di alcuni prodotti interessanti per l'agricoltura avere dei salici capitozzati che vengono mantenute dagli agricoltori e con essi hanno i vimmini hanno i pali per attrezzi eccetera oltretutto questi 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 ambienti sono anche interessanti perché contengono delle specie utili da un punto di vista della biodiversità sulla destra vedete un lido di un picchi un altro aspetto del trattamento della vegetazione fluviale sul quale insisto proprio perché si tratta di evidenziare dei vantaggi che un buon trattamento può avere è quello della fruizione voi sapete bene che lunghi corsi d'acqua ci sono pescatori gente che va a camminare porta il cane ci sono canuristi ci sono bikers c'è molta gente che ama andare e a tralazzarsi lungo il fiume ed è bene che ci siano degli interventi che favoriscono questa attività sia da un punto di vista della sicurezza di tagliando alcune piante pericolanti che voi potreste avere sopra una ciclopista sia per avere dei trattamenti delle zone avere delle zone aperte no qua nei quali opportuno magari avere una situazione di prato quindi è utile eliminare la vegetazione lignosa sia per facilitare agli sport acquatici o la pesca sulla sinistra è una postazione per il car fishing ovvero per la pesca la carpa che è stato fatto lungo un corso d'acqua questo in francia un altro motivo è che certe specie sono poco compatibili con la fruizione rovi robini altre specie spinose fa insomma quando voi camminate e ci battete dentro non sono molto piacevole e ci sono altre delle specie allergeniche come l'ambrosia che causano dei problemi quindi in quei casi lì è bene che non ci siano perché potrebbero determinare dei fastidi diciamo in questi termini adesso io vi parlerei un po delle specie invasive per concludere questo webinar andando velocemente perché di questo poi dopo vi parlano i colleghi massare minciardi la prossima settimana è un aspetto che è poco considerato in genere ma è molto rilevante è un problema questo dell'invasione di specie aliene o esotiche o all'otto nella stessa cosa sono sinonimi che si è venuto a creare laddove con la globalizzazione gli scambi tra i vari continenti è aumentato e quindi c'è stato un incremento di queste di arrivo di specie nuove dov'è che è utile fare questo controllo all'inizio dell'invasione perché poi in realtà dopo diventa molto costoso quindi è importante riuscire a cartografare la presenza della vegetazione esotica lungo un corso d'acqua definire delle priorità di intervento e realizzare un piano d'azione pluriannale perché non è che si eliminano con una sola azione e poi è molto importante condividere le informazioni come abbiamo visto anche con le ditte che poi fanno il lavoro occorre quindi evitare delle battaglie frontali che non sono molto fruttuose e costano molto e quindi le pulizie tradizionali anche in questo caso forniscono delle controindicazioni proprio perché sono improvvisate non tengono in considerazione queste queste modalità di intervento queste ci sono varie modalità di intervento su cui io vado abbastanza veloce per concludere e che lascerò poi ai miei colleghi la prossima volta passiamo alle conclusioni allora cosa può essere utile per un amministratore sapere e come ci si può orientare nel futuro avendo alcune strategie che ho chiamato smart ma a me non piacciono particolarmente i termini anglosassoni laddove ce ne sono dei nostri ma in questo caso qua è un termine abbastanza usato quindi la prima cosa da fare è capire dove portano le dinamiche alluvionali che noi oggi abbiamo visto in quale direzione vanno poi capire se ci che ci sono degli ambiti che il fiume può gestire da solo specialmente nei grandi corsi d'acqua e più naturali possibili e dei contesti in cui è l'uomo a farla da padrone dove gestire deve gestire degli ambienti che già lui stesso ha antropizzato e poi perché occorre come strategia generale avere un habitat differenziato ebbene non avere un territorio completamente disboscato lungo un fiume ma anche bene non avere un territorio completamente boscato quindi la varietà delle strutture degli degli habitat aumenta la resilienza questo nel tempo la resilienza e la capacità di reagire a degli eventi negativi che per esempio hanno gli organismi e gli ecosistemi quindi occorre ottenere dei popolamenti di elevata stabilità e stabilire delle strategie di controllo a livello di specie all'opera adeguata quel contesto quindi manutenzione e riqualificazione sono approcci che possono andare nella stessa direzione altro aspetto importante è che la gestione della vegetazione può ben poco se non accompagnata da misure urbanistiche la scorsa settimana avete visto questa slide della mia collega ingegnere che mostrava come a limone piemonte questa casa che finita su tutti i giornali si è finita dentro il corso d'acqua cattivo corso d'acqua cattivi gli alberi che erano a monte questo messaggio che passa in realtà guardate quanto è stretto il vermenagna o il suo affluente deve essere la sua fluente che passa in quel contesto cosa è successo è successo che arrivando giù molta acqua e avendo inciso la base di queste questi muri di cemento e i muri cemento sono tutti giù e quindi il corso d'acqua è entrato praticamente nella casa e la casa ha fatto crack quindi è importante avere delle misure urbanistiche adeguate specialmente in questo periodo di cambiamento climatico cambiamenti climatici i commenti climatici sono anche adesso una materia che viene insegnata ai politecnici per esempio politecnico di torino a milano una volta uscivano solo fuori degli ingegneri che facevano dei calcoli eccetera e non non andavano a occuparsi di questi aspetti oggi invece il politecnico ad esempio di torino forma delle personalità delle figure professionali delle professionalità che cominciano a prendere in considerazione anche i vari servizi che gli ecosistemi possono dare c'è stata la settimana scorsa una presentazione di un progetto ostana quindi valpo su questo aspetto quindi considerare che le misure di attalamento e cambiamenti climatici possono essere fatte in ambiti differenziati quindi non solo in ambito urbano dove queste strategie cosiddette smart prevedono un ritorno della natura laddove possibile nel contesto urbano ma anche in una zona periurbana che in realtà sono quelle più sensibili e un ambito rurale per ultimo è importante riuscire a monitorare cioè a verificare se un intervento che è stato fatto è efficace e formare gli operatori importante che il palista il draghista che lavora sia consapevole di quello che fa e segua un piano che è stato appositamente effettuato spesso quello che succede nella nostra pratica è di verificare l'efficacia degli interventi che sono stati effettuati sia di taglio sia quelli che vengono effettuati con dei manufatti quindi qual è lo spazio di responsabilità iniziativa che esiste a livello delle nostre comunità locali e abbanda è abbastanza abbastanza importante innanzitutto ci vuole un miglior corridiamento tra i vari livelli dell'europa quello dello stato delle regioni le comunità locali sono stati pubblicati a livello regionale delle delle linee guide sulla vegetazione della vegetazione molto eterogenee e quindi non sempre c'è stato un passaggio di quello che è un accoglimento sistematico ed organico dell'indicazione delle direttive europee le direttive europee sono quelle che ogni stato recepisce e anche sui corsi d'acqua sono importanti riguardano c'è la direttiva acqua e la direttiva habitat quella alluvioni quella nitrati tutti aspetti che sono collegati tra di loro l'altro aspetto è che gli enti locali devono finalmente agire di concerto non ognuno per conto proprio ma organizzare delle cose fare dei progetti assieme in modo che quello che fa un comune non vada a scapito del comune a valle o comune di fronte cosa che spesso è successo per cui è importante che venga affrontato la gestione a livello di tratti omogenei di corso d'acqua e anche non solo più che ogni comune faccia i suoi lavori di manutenzione e le sue opere questo è fondamentale un altro aspetto il terzo che vi segnalo è quello della responsabilizzazione dei privati perché sui piccoli corsi d'acqua possono fare delle cose avendo a come riferimento dei indirizzi tecnici che siano tecnicamente scientificamente validi e poi appunto quello a cui abbiamo accennato dal momento che la manutenzione costa e spesso di più della riqualificazione che la riqualificazione prevede di rifare un diciamo una gestione da capo senza metterci sempre le pezze ogni volta che succede qualcosa e poi su questo riparleremo sull'ultima slide occorre approvare a sperimentare delle modalità partecipate proprio perché tra enti privati associazioni possono nascere delle collaborazioni importanti e oltre a costare di meno permettono una maggiore consapevolezza delle di tutti parlavamo di manuali siamo alla conclusione esistono alcuni già da tempo alcuni un po più complessi questo sulla sinistra degli indirizzi della gestione di boschi pari montane e collinari ormai esistono da 12 anni esiste e sono state fatte anche delle versioni divulgative che voi potete scaricare da internet che trovate e quindi c'è tutto in parte quello che abbiamo discusso oggi su dei piccoli manualetti che voi potete tranquillamente scaricare quello che occorre è questo cambio di strategia generale proprio perché metterci sempre la pezza a volte costa molto di più ed è meno efficace di comprare un vestito nuovo quindi occorre passare da strategia dell'emergenza a una riqualificazione fluviale di interi corsi d'acqua e questo si auspichiamo che anche con il recovery found come era stato fatto a suo tempo con italia sicura possono esserci dei fondi per considerare un corso d'acqua come un unico corpo su cui interagire detto questo io vi ringrazio spero di non avervi annoiato troppo e ripasso la parola agli organizzatori del webinar grazie mille paolo varese complimenti perché ritengo che sia stata veramente un'esposizione completa e soprattutto sebbene molto tecnica molto nel senso non troppo ma chiaramente di argomento molto tecnico credo sia veramente arrivata facilmente alla comprensione anche di chi non è esperto del settore che era insomma una cosa che ci premeva premeva di più in assoluto abbiamo visto che non sono arrivate al momento domande io incentivo di nuovo forse c'è una mano alzata però ti c'è carlo vietti che chiede la parola chiedo le colleghe del dello staff se possono dargli direttamente la parola pronto mi sente dottore sì buonasera buonasera la sento bene dottore buonasera intanto complimenti per la sua esposizione perché delle volte queste posizioni io mi perdo un po invece stasera non mi sono perso anche se non sono sicuramente così preparato come lei o come altri ma io intanto io mi presento sono il sindaco di idruvento carlo vietti è un comune che è stato alluvionato 94 2000 un comune che ha una peculiarità e praticamente non so se lei lei ha presente siamo la confluenza del torrente ceronda del torrente casternone tutto un bacino imbrifero che è praticamente con dei riei no ma io devo dire che condivido alcune cose non le condivido di quelle che lei ha detto ma mi permetto di fare alcune domande perché penso che lo scopo anche questa sera è quello ma noi abbiamo avuto questa esperienza e condivido con lei che ci va scusi se faccio una un preambolo poi lì le faccio anche lì la domanda sicuramente quello che manca io parlo del piemonte in questa zona ma penso il piemonte ma non mi voglio allargare troppo anche e su questo concordo con lei che ci va una regia unica c'è il problema è che tanti amministrazioni e qui è una pecca della regione piemonte anche leggermente della città metropolitana che secondo me su alcuni alcuni interventi potrebbe essere più di stimolo e di coordinamento quindi è inutile che ogni amministrazione intervenga su un tratto di fiume ma bisogna farlo e devo dire la città metropolitana sicuramente coi contratti di fiume con altro ha già iniziato però è inutile dare le risorse ai comuni io delle volte direi che le risorse le devono dare e chi è il gestore dell'asta fluviale una volta c'era il magistrato per il po adesso c'è la regione quindi la regione per alcuni tratti le comunità montane per altri dovrebbero con un piano che lei naturalmente sull'alta valle io non entro lì nel merito perché non ho conoscenza però sulla sulla bassa ad esempio tutto il discorso del materiale lineo che lei ha detto delle volte in mass media sono un po così fanno un po di terrorismo ecco lei non ha usato quella parola lì ma ne ha usate altri concetti devo dire che invece da noi quando sono state le alluvioni questo materiale ha fatto ostruzione ai ponti e facendo ostruzione ai ponti ha fatto dighe e l'acqua poi ha girato intorno quindi sicuramente un ragionamento più più stringente su questo poi le volevo dire che da noi ad esempio sono da oltre 45 anni ma questo sono un dato che lei sicuramente lì lo conosce che non avvengono più di salvi cioè il prelievo del materiale lapideo perché sto parlando che dopo che era successo al ponte di veneria non hanno più lasciato giustamente fare i prelievi no oggigiorno è l'altro problema è che oggigiorno quando uno fa dei lavori in alveo il demanio impone il costo di questo materiale quindi più nessuno è interessato cioè una volta c'era anche che si poteva prendere il materiale e rimbottire lì le spondi io ho io questa concezione dottore non so se poi lei mi corregga io dico che delle volte io sto parlando sul materiale vicino ai ponti che si potrebbe prendere e rimbottire lì le spondi o fare degli interventi di ingegneria naturalistica che sicuramente sarebbero utili altre cose è vero che il fiume fa prende e deve essere noi abbiamo adottato questa abbiamo fatto parecchie vasche di laminazione e che lei sa che sono molto difficili da fare anche con la soluzione di categoria e quindi noi ne abbiamo fatte due e queste sono funzionali al cento per cento perché rallentano l'acqua e il principio del imperico dell'imbuto che io e qui rallento l'acqua e quindi abbiamo fatto delle vasi noi poi abbiamo tantissimi corsi artificiali e quindi io quello che mi aspetterei ma anche dopo questa sera io sono anche lì disponibile a fare un esperimento sul nostro territorio che è collegato col parco regionale della mandria e quindi abbiamo la possibilità di fare queste cose di dire la città metropolitana e qui la le dottoresse che che mi ascoltano ma anche di fare prendere questa zona che va da veneria ma sono sicuro che anche il nuovo sindaco di veneria che è stato appena eletto e anche altri noi siamo disponibili a provare anche a fare quelle cose che lei devo dire dottore per noi non condividiamo tanto ma forse per la nostra grande ignoranza ecco questo è sicuramente è una specie quindi io lì la mia domanda era quella di come abbinare per arrivare per non fare un monologo come abbinare questi interventi di forestazione o comunque di mantenimento di queste regole con l'esigenza in alcuni tratti che sono già antropizzati soprattutto noi abbiamo quella fotografia che lei ha fatto molto fatto bene erosione spondale perché l'alveo ha inciso e quindi porta via del porta via del anche terreno agli agricoltori e quindi lì occorre fare magari solo delle difese spondali per ripristinare e magari fare anche perché ad esempio tante volte mettono dottore mettono che il rifacimento di tratti lì di scogliere mette le famose talee ma non servono a niente perché si mettono specie che spendiamo ma guardi sono convinto che se andiamo a vedere in generale pochissime hanno fatto della di nuovo rigenerazione di specie erbore quindi vediamo se riusciamo finalmente su un tratto a fare quelle cose che lei diceva abbinando anche quelle esigenze che noi amministratori dobbiamo poi coi nostri cittadini perché lì leggevo che la dottoressa diceva sfatiamo questo mito però è questo è vero c'è oggigiorno quando si è come si dice è più molto intesa e quindi è come si dice questa cosa incide un pochettino sulla sulle cose però io sono disponibile magari poi con la collaborazione della città metropolitana a fare anche qualche esperimento perché secondo me da noi come da altre parti ci sono tutte quelle quelle caratteristiche che lei prima ha evidenziato mi scusi della mia lungaggine dottore ma allora parlando io non ho la soluzione in tasca poi su questo soprattutto bisogna parlarsi e confrontarsi ma di oltretutto il ciroonda lo conosco poco perché non ci ho mai lavorato sopra civa quando vado a venaria la mandra lo vedo ci passo sopra e basta quindi da questo punto di vista non conosco bene la situazione locale rispetto alle cose che si dicono ho visto che lei diceva il pagno in capulli dai film allora io ti direi anche ma le miei catena camisa nuova che finna un pacun no questo passando per immagini la visione della riqualificazione che io anche i miei colleghi hanno il problema del legno morto allora io come l'ho affrontato poi non ho detto che sia la soluzione migliore non è tutto rocolato si sta adesso ragionando su questo bisogna da prima capire da dove arriva perché si può agire sul fatto che ne arrivi il meno possibile qualcosa deve arrivare per forza perché non siamo in grado di gestire tutto il secondo aspetto è quello dei cambiamenti climatici mentre una volta era prevedibile immaginare che quel tipo di evento corrispondeva a un evento ventennale evento cinquantennale oggi non lo è più se dovesse venire giù una flash food cioè una pioggia improvvisa come quella che successa i primi d'ottobre 500 600 mm d'acqua in poche ore lei immagina un territorio sul bacino a monte lì nella zona sua immagina mezzo metro d'acqua su tutto il territorio dove va finisce tutto a valle e quindi il problema è dove lo mettiamo a tutta questa acqua qua è chiaro che venendo giù porta via di tutto porta via tutto quello che incontra nelle vicinanze quindi in generale potrei dire che il problema un problema di spazio lo sarà sempre di più perché con i cambiamenti climatici dovremmo avere sempre più spazio per far fronte a questi grossi eventi sia ci auguriamo tutti che non ce ne siano ma diciamo tutti i lavori sui cambiamenti climatici che gli eventi estremi aumenteranno e quindi bisogna fare in modo che di trovare degli alleati allora l'alleato migliore è lo spazio disponibile chiaro che se uno ha un corso d'acqua confinato tra delle abitazioni è molto più difficile però ad esempio in ambito agricolo questo le posso dire è stato fatto un lavoro è proprio un progetto che provava a coinvolgere gli agricoltori che in cambio di compensazioni monetarie potessero avere una sorta di indennizzo nella situazione di gravi piene che allagassero i loro i loro i loro campi quindi c'era una specie di servitù di allagamento di cui si è discusso questo su dei piccoli corsi d'acqua probabilmente addirittura anche più piccoli del ceronda quindi bisogna rimanere tutt'assieme una modalità che permetta all'agricoltore di non rimetterci il raccolto di essere compensato e alla comunità stessa di usufruire quei terreni quando avvengono dei grossi eventi di piena poi il legname è importante capire da dove viene evitare che venga portato via e ad accumularsi poi bene o male qualcosa arriverà giù quello costa quello costa molto costa molto anche nelle zone costiere abbiamo visto 20 miglia portarlo poi via per lì una zona turistica e quindi bisogna trovare delle modalità partecipate io dove ho detto trovare delle delle intese tra enti privati e associazioni vuol dire fare in modo di sburocratizzare quello che può essere il recupero del liame morto che adesso rende abbastanza problematico il suo smattimento questo non vuol dire via liberi tutti andare con la motosega a tagliare tutto quello che c'è ma fare in modo che questo che è una cosa di nessuno termini normativi res nulli e su vuol dire tutto quello che c'è in alveo e di tutti e del demagno no però in realtà non è di nessuno quindi anche un basso valore però in parte potrebbe essere recuperato per usarlo come biomasse eccetera quindi è un grosso lavoro di comunicazione e l'implicazione oltre di tipo tecnico sono anche soprattutto di tipo amministrativo proprio perché si complicano le cose ci sono diverse competenze che si inserano e poi per finire così poi a suo tempo una replica o qualcun altro ci sono gli aspetti culturali quando qualcuno viene a dirmi non si fa più la manutenzione fluviale bisogna dire ma quella serve non molto la manutenzione voglio dire la pulizia dei fiumi non è mai stata fatta una volta veniva fatto il dragaggio che che era un aspetto poi negativo perché poi alla fine i ponti collavano perché veniva a mancare di la terra da sotto i piedi è un altro periodo adesso abbiamo tutti gli elementi per dire che invece necessario considerare in modo diverso questo aspetto quindi la pulizia dovrebbe essere sostituita con delle azioni più precise che può essere quello di un approccio selettivo della manutenzione può essere quello del recupero delle nami morto può anche essere quello dell'identificazione di terri di ambiti per i pluviali quindi di terreni dove questo legname morto può andare a depositarsi e dove lì è più facile tirarlo via rispetto a un diciamo allarcato al pilone di un ponte quindi è un problema che va risolto anche a livello di pianificazione urbanistica e preferenzialmente nell'ambito di un contratto di fiume perché il contratto di fiume è quello che mette insieme tutti gli attori che difficilmente riuscirebbero a organizzarci per dei progetti singoli la regione piemonte ha un bando quello sulla riqualificazione fluviale che può prestarsi alcuni di questi interventi quindi su questo se poi le colleghe della città metropolitana vogliono dire qualche cosa o qualcun altro di non parlo sempre io ci sono anche delle possibilità di passare attraverso una progettazione spero di essere stato esauriente per le sue risposte ma poi chiaro essere esaustivo bisogna dire andare sul terreno vedere i problemi reali o questo qua conoscendo poco il territorio sono in grado forse di darle tutte le risposte che lei vuole posso certo prego sindaco no ma intanto lei è stato molto esaustivo e condivido io mi auguro che la città metropolitana che che la se l'ha invitata a fare questo web sicuramente io mi rendo lì disponibile a incontrarla eventualmente anche con gli esperti della i responsabili della città metropolitana per una chiacchierata perché il nostro territorio sicuramente ha delle esigenze e dato che è un territorio che in certi punti anche antropizzato perché scorre da una parte c'è il muro del parco della mandria e quindi abbiamo anche alcuni interventi per preservarlo perché se no altrimenti c'è in atto una erosione spondale no su questo muro che veramente anche bello il muro piemontese e altre cose poi siamo vicini alla alla reggia e quindi io sono disponibile se eventualmente la città metropolitana la se la se riusciamo a fare un incontro ecco un incontro serve sempre ecco poi se lei già viene per il parco magari possiamo poi scambiarci un attimino farò poi riferimento la dottoressa la dottoressa Sarsotti e la dottoressa che sta in questo momento conducendo Weibar per per così confrontarci anche un attimo ma secondo me serve molto chiudo dicendole che sicuramente serve una linea comune questa non esiste non c'è un coordinamento su questo io lo posso dire nella mia zona ognuno fa a seconda del io ad esempio sto facendo delle risalite per per i pesci ad esempio vicino ai cioè voglio dire che mi ha finanziato la regione Piemonte ho fatto un bando e altre cose o un canale naviglio che è 33 chilometri con anche con tutta una serie di problematiche con anche parecchie col col micro ilico cioè io ci credo molto il territorio perché e soprattutto sulle sulla manutenzione del territorio insomma io poi sono 35 anni che sono lì in amministrazione quindi sono già uno un po di quelli come si dice un po guregni in Piemonte ecco per essere chiari però accetto anche di essere come si dire di sono sempre aperto a chi ha più esperienza e soprattutto chi ha che ha queste nuove tecnologie io sono anche un po affascinato i soldi ci sono guardi l'unica cosa che secondo me e qui non mancano non dico nel mio comune ma in generale i soldi ci sono bisogna spenderli bene e poi quando ci troviamo le farò vedere in alcune situazioni dove sono stati spesi anche molto male i soldi ma penso che lei anche dalle sue parti qualche esempio ce l'ha e allora quando vengono spesi male perché poi a distanza di qualche anno c'è un alluvione che anche peggio e poi l'abbiamo viste no quelle che sono successe in quel caso abbiamo fatto un cattivo un cattivo servizio al nostro territorio e anche della popolazione quindi sono lì disponibile per confrontarsi intanto li la ringrazio per questa per queste per questa sua esposizione che le faccio ancora una volta i miei complimenti dottore grazie a lei per il suo contributo io vorrei ringraziare sindaco vietti perché ha colto tra l'altro in pieno lo spirito di questi webinar che è proprio quello di creare un confronto e di proporre anche con collaborazioni o nuove strategie nuove attività territoriali peraltro chiaramente con con il sindaco abbiamo già avuto modo tra l'altro recentemente di confrontarci su alcune necessità nell'ambito del contratto di fiume di un recente progetto che abbiamo provato a presentare sui finanziamenti life secondo me questo ha comunque già creato le premesse penso sindaco per proseguire su questa strada in ogni caso qualunque sia l'esito della candidatura perché vale sicuramente la pena una volta che si creano le sinergie di portarle avanti quindi colgo anche lo spunto che ha dato paolo varese prima appunto di non fare più da soli perché è perdente in partenza su tutti su tutti i fronti l'attività e quindi raccolgo volentieri insomma se anche il dottor varese d'accordo l'idea di un confronto diretto con il territorio del ceronda che peraltro è un corso d'acqua particolarmente interessante anche da un punto di vista ambientale e lascerei la parola a paolo sassone che aveva alzato la mano che forse ha già il microfono attivato quindi può direttamente fare la domanda eh sì buonasera mi scuso se ho tenuto acceso il microfono ma sono stato zitto vorrei rinnovare i complimenti al dottor varese io sono paolo sassone geologo sono a stessone in un piccolo comune faccio parte dell'ordine dei geologi sono referente della sige in piemonte e partecipo questi webinar perché sono estremamente interessanti e sono convinto che siano un ottimo strumento di trasmissione della cultura di confronto detto ciò volevo sollecitare il dottor varese a esporre e dettagliare un po il suo pensiero su quello che è l'inevitabile oramai individuazione della pianificazione di nuove aree di laminazione delle piene a fronte dei cambiamenti climatici e il ruolo ovviamente anche della vegetazione all'interno di queste aree di laminazione dico questa cosa confortato e convinto oramai dopo gli eventi di inizio ottobre ma non bastasse abbiamo tutta una sequenza di esempi negli ultimi anni dove è chiaro che c'è una progressione di intensità di eventi e che rendono in qualche modo superate già le pianificazioni che noi stessi facciamo con il PAI sulla definizione delle zone di esondazione sia sui rii minori che sui rii maggiori quindi personalmente sto conducendo così una mia personale iniziativa di sensibilizzazione su questo aspetto ma vorrei appunto che discutendo di questa cosa passi il messaggio attraverso gli amministratori e verso gli amministratori sul fatto che bisogna ripensare l'approccio complessivo in particolare cito due aspetti in questo momento è in fase di discussione il nuovo PAI piano attività, piano regionale attività estrative che già in qualche modo dà delle indicazioni sull'aspetto legato alla riqualificazione anche delle zone perifluviali dove vi siano delle attività estrative che possono essere come dire di aiuto nella prevenzione degli effetti delle piene e in particolare richiamo quella che è l'esperienza che già nasce nel 2007 nella regione Veneto quando va a individuare l'indennità di allagamento questo termine citato al dottor Varese è un termine che dovremmo stamparci secondo me personalmente nella memoria perché è l'unico modo per arrivare a condividere delle soluzioni con il mondo degli agricoltori e dei portatori di interesse nella zona diciamo così dei corsi d'acqua per cercare di arrivare a delle soluzioni in particolare la mia idea è che la regione dovrebbe di concerto anche con le province individuare uno studio specifico di individuazione delle potenziali aree destinate a appunto aree di laminazione con specifici indennizi e questo processo deve iniziare quanto prima perché è inevitabile che a seguito del continuo battere di record di precipitazioni ho visto nessun Piemonte passare dai 400 mm in 24 ore a quasi 600 mm in 24 ore nel giro di sei anni è impensabile immaginare che le nostre infrastrutture i nostri abitati le nostre così aree i nostri territori possano essere come dire compatibili con questo mutamento climatico grazie ancora saluto tutti ma allora sulle aree di laminazione beh poi lei da geologo lo sa meglio di me abbiamo diversi esempi che abbiamo funzionato un po meno altri in sostanza si tratta di unire visto che ci vuole comunque spazio bisogna andarlo prendere questo spazio e bisogna fare in modo che ci sia un processo che permetta di trovare più possibile persone enti e categorie d'accordo su questo specialmente con la prospettiva che si diceva prima dei cambiamenti climatici e degli eventi che necessitano di una reazione del territorio per cui io lo individuo senza essere un esperto di questi aspetti qua ma comunque ho individuato questa indennità come di allagamento una cosa fondamentale che potrebbe passare diciamo a una fase di studio su come applicarlo facendo in modo però che non sia un'indenità come spesso succede gratuita ma sia motivata ovvero sia legata a un qualche cosa che poi dopo è funzionale al bene comune al bene pubblico quindi non che non ci sia una corsa all'indenità per accapararsi dei soldi e poi dopo che tutto questo possa risolvere risolversi in una una bolla di sapone io di di aree diciamo di inondabili o di casse di espansione non ho viste qualcuno non ne ho viste tantissimo conosco quella del reno tra l'altro sono quasi tutte aree in sic natura 2000 sono riserve naturale visto quella del secchia che è un ex cava per cui effettivamente la dove ci sono delle cave in dismissione quello potrebbe essere un altro ambiente a livello territoriale utile a questo scopo oltre ai terreni agricoli credo che con questo si possa arrivare anche a una diciamo valorizzazione polifunzionale in un territorio perché allo stesso tempo se questa è un'area anche interessante a un punto di vista naturalistico ci si può fare educazione ambientale ci si può fare della fruizione e attorno a questo contesto qua possono nascere anche dell'attività eccetera quindi io sono pienamente d'accordo che su questo ci si possa incontrare e provare a fare qualcosa assieme benissimo grazie anche al dottor sassone per la domanda allora invece è arrivata una domanda scritta che che leggo e da parte dell'assessore giovanni bonino di clavesana dice in un comune come clavesana alluvionato 94 2016 2020 come vedo ormai periodicamente invasi dall'acqua alcuni quartieri borgate non sarebbe possibile fare interventi di canalizzazione per deviare il fiume nell'occasione dell'evento alluvionale il comune in questo caso può proporsi come attore dell'intervento e poi specifica che il fiume è il tanaro in questione ma quello è un problema soprattutto urbanistico allora avere una possibilità di avere uno scaricatore di queste piene è già stato fatto in altri contesti no quindi un canale che viene attivato una certo tira con un certo tirante idrico porta via dal diciamo dal corso principale che magari attraversa una paese una città una buona parte del di quella di quell'acqua che poi causerebbe dei problemi bisogna avere gli spazi bisogna avere gli spazi per fare in modo che questi scaricatori di piene possono poi dopo riconfluire lungo il in questo caso il tanaro in un altro contesto senza creare problemi altrove ecco quindi questo è possibile beh genova per esempio il famoso problema del ferragiano credo che vada in quella direzione la l'effettuazione di un lavoro di questo genere mi ricordo averne visto anche un altro in emilia in cui erano proprio dei canali fatti a suo tempo dalla bonifica questo lungo il fiume reno che servivano a evitare che le piene finissero in zone densamente coltivate e abitate quindi è una pratica senz'altro che necessita di un anche di una grossa concertazione un altro lavoro che ho fatto e ho visto nel sud ovest della francia non so se vi ricordate qualche anno fa 2009 il fiume od creò enormi problemi diversi morti e questa operazione molto grossa che ha necessitato anche una grossa lavoro per avere una coesione territoriale portò a diciamo alla dismissione di decine e decine portò dieci anni fa più o meno di ettari di vigneto produttivo quindi immagino che a livello poi dopo di compensazioni monetarie quanto lo stato ha versato agli agricoltori che sono visti quindi requisire questi terreni per fare delle zone in cui parano parlavano diciamo passavano dei canali e delle zone di laminazione delle piene abbia inciso in modo molto importante quindi bisogna avere la coesione territoriale per fare un progetto comune delle delle risorse finanziarie importanti e un progetto chiaramente tecnicamente ben fatto in zona di montagna proprio io la val tanaro la conosco di più nella parte alta che nella parte bassa ma garessio è la stessa situazione se non sbaglio se ci fosse la possibilità di far passare il tanaro altrove e lasciare la parte centrale che ormai l'abitato e c'è cresciuto lì sopra farlo deviare passando fuori dal dal paese si può fare però bisogna vedere lo spazio che sia quindi sono tutte soluzioni che necessitano di una grossa concertazione a livello territoriale benissimo grazie a tutti per le domande grazie soprattutto al dottor varese per le risposte molto molto esaustive allora non ci sono altre domande almeno nel momento direi che possiamo lasciare la possibilità se il dottor varese d'accordo di eventualmente inoltrare altre domande poi successivamente via mail e noi gireremo direttamente al dottor varese se lo ritenete se lo ritenete utile volevo solo dire velocemente prima di chiudere due parole sul bando di cui parlava precedentemente il dottor varese sul bando della regione piemonte per la riqualificazione dei corpi idrici chiaramente non è un bando della città metropolitana ma ne parliamo proprio perché siamo nel contesto giusto per poter ragionare sulla presentazione di progetti nell'ambito di questo bando il bando esiste ed esce ormai a carico della regione piemonte e da qualche anno deve essere questa forse il quarto anno di edizione e destina dei fondi forse per la prima volta o quasi a una vera e propria riqualificazione fluviale normalmente chi lavora in questo ambito sa che ci si arrabbatta un pochino con bandi similari in cui si fa rientrare la riqualificazione invece questo è un bando veramente mirato ed è anche devo dire molto attento a che l'obiettivo presentato sia davvero quello solo è un bando completamente finanziato dalla regione piemonte quindi non richiede cofinanziamento viene appunto bandito una volta l'anno speriamo che ovviamente che continui e prevede proprio per devo dire tutte le come delle considerazioni già fatte finora risponde pienamente al fatto di non partecipare da soli perché ha una primarità molto alta su progettazioni presentate per più enti insieme quindi più comuni oppure città metropolitana o province e comuni insieme o parchi perché poi da volte importanza anche alle aree protette quindi simbolo solo appunto dare questa descrizione chiaramente noi come città metropolitana abbiamo già in scorsi anni cercato insomma con le risorse umane che abbiamo di supportare quindi di partecipare insieme ad alcuni comuni in alcuni territori alcuni bandi e quindi alcune diciamo interventi di riqualificazione sia su laghi sia più torrenti si stanno portando avanti quindi sicuramente è una risorsa su cui puntare in ogni caso e che deve appunto invitare davvero i comuni a lavorare a lavorare insieme un'altra un altro spunto che colgo molto e la questione ribadita più volte da tutto dal dottor varese dell'attivazione di reti anche con le associazioni su questo ritengo appunto che chiaramente lavorando sui contratti di fiume siamo già di base pienamente d'accordo sul coinvolgimento delle associazioni ma questo mi dà anche la possibilità di agganciarmi a un discorso legato al fatto che recentemente molto recentemente abbiamo stretto una collaborazione con legambiente che sta legambiente piemonte che sta portando avanti insieme i circoli un progetto live rispo che è finalizzato alla formazione di nuclei di giovani volontari per l'ambiente che lavorino in particolare sul miglioramento ambientale in alcuni casi anche in particolare sui corpi sui corpi idrici quindi ha un'attività riteniamo molto molto in linea diciamo con tutto quello che è stato detto e vi presenteremo il 19 novembre che sarà l'ultima l'ultima data dell'ultimo webinar diciamo di questa serie di formazione vi presenteremo il lavoro che stiamo cominciando a promuovere come città metropolitana sulla creazione di un catalogo di aree che vorremmo raccogliere collezionare con l'aiuto ovviamente di tutti cioè dei comuni e delle associazioni assolutamente sulle quali poi poter far ricadere più semplicemente i fondi che come diceva il sindaco vietti spesso ci sono ma non si sa bene spenderli nel modo corretto quindi vi racconteremo questo il 19 novembre ma volevo anticiparlo perché sarà molto molto importante la partecipazione di più comuni possibile perché sarà appunto rivolto poi un questionario per aiutarci a creare questa questo database di aree che ci verranno in soccorso in aiuto quando avremo dei fondi per esempio da spendere per le compensazioni ambientali di opere e sapremo probabilmente meglio di oggi come spenderli e dove farli dove farli atterrare quindi ci tenevo a fare questo questo approfondimento e invitare tutti ovviamente a partecipare non solo quello ma anche agli altri webinar che proporremo nei prossimi giovedì a questo proposito appunto ribadisco che la prossima la prossima settimana l'incontro sarà con il dottor matteo massara della regione piemonte e la dottoressa moririta minciardi del centro ricerca enea e vi parleranno appunto più approfonditamente grazie anche allo spunto che ha già dato il dottor varese dei problemi legati alla diffusione delle specie esotiche invasive che come diceva il dottor varese abbiamo ormai quasi ovunque molto spesso si sottovalutano soprattutto all'inizio quando ancora si potrebbe fare qualcosa quindi si ritiene che sia sicuramente uno spunto formativo molto interessante se non ci sono altre domande ringrazio tantissimo il dottor varese e soprattutto molto tutti i presenti perché hanno tenuto duro quasi tutti fino alla fine quindi direi che siamo soddisfatti quindi grazie a tutte a tutti e buona serata giovedì prossimo buona serata di vedeci grazie grazie a tutti grazie a tutti